Ho un'immagine nel cuore Che da anni vivi in me Ti accompagna e non sono solo un amore Ho un'immagine nel ricordo Che mio padre accanto a me Che mi insegna una canzone che Dai lì, dai lì, dai lì 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 Dai lì, dai lì Ho una voce in fondo al cuore Che mi chiede di cantare Con un sguardo che non sfiorirà Io cantavo nei suoi sogni Lui ballava insieme a me Questa magica parola che fa Dai lì, dai lì, dai lì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie! 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 Grazie di cuore! Grazie a tutti. Permettetemi cinque minuti soltanto per presentarmi innanzitutto questi due splendidi ragazzi che quest'anno è il secondo anno che sono con noi. E sono un po' un orgoglio nostro ma anche della vostra terra perché il nostro Andrea viene da Chiavari e fa parte della scuola di Mauri Sport dei Civita. E infatti parlo di Andrea Civita! La sua compagna nella vita, la sua compagna nella danza, più di così non si può. Insieme loro due hanno vinto tantissimo, anche le gare internazionali e sono un po' l'orgoglio della nostra Liguria. E lei, signore e signori, Eleonora Dimitri!